Un ragazzo fantastico, dagli occhi più belli del mondo, un bambino fantastico di 2 anni, adesso è mio a 106, sono io, notario, munis, si vedeva cercare un po' la vola, mi piaceva con gli occhi bellissimi, guarda che fa questo fai, è bellissimo, è una bambolina, si sente quello che dico, si sente quello che è in quadro, ragazzi, lo sono scopiniti, è nata con il volto corretta, ora abita a Roma, se c'è lì, bisogna in viaggio a Comune Passi, con i sette, sono sonate, è al 268, 291, 155, mi sta generando, è bellissimo, per te, ecco, occhi bellissimi, siamo sempre, sono bellissimi, è una bambina, è una bambina, è un bacio ad esmeralda, è un bacio ad esmeralda, sui cammini, a commettere il suo generato crimine, un bacio ad esmeralda, vincerò, vincerò, vincerò. Una difesa, avvocato vuole fare una ringa introduttiva, avvocato. Vincenzi, devi fare la ringa introduttiva, forza, segnali. Tutto quello che ha detto il collega, sono sonzato. Obiezione, vostro onore, l'intera ringa della difesa è un'opinione personale. Obiezione a cosa? Che l'intera ringa della difesa, ad eccezione di grazie, sia cancellata dal verbale. La giuria è pregata di non tener conto della ringa introduttiva della difesa. E lei, signor Gambini, non usi più quel linguaggio nella mia aula giudiziaria, è chiaro? Sì, sì, è la pena. Bellissima, pazzesca, meravigliosa, sto prendendo la giuria. Signor Gini, vuole prendere la nuova? Oh, bello, come un sol. Dai! Ciao!